eccoci e bentornati sul mio canale call of duty black ops 2 bene è stata trovata una mimetica che non è mai uscita sigla correva esattamente l'anno 2012 nello specifico il 12 novembre 2012 quando la treyarch rilasciò call of duty black ops 2 a 5 anni di distanza è stata trovata una mimetica all'interno del multiplayer che a quanto pare non è mai stata rilasciata avete capito bene avete visto il primo screen ovviamente nella miniatura purtroppo non lo posso mettere all'interno del video sempre per problemi di copyright però se vedete la miniatura vi renderete conto della mimetica di cui stiamo andando a parlare perché non è una nuova mimetica ma è una cat camo quindi una mimetica tagliata nel senso che non è mai stata rilasciata una mimetica che è contenuta all'interno del gioco sembrerebbe se è stata trovata all'interno della versione pc di call of duty black ops 2 ma una mimetica che praticamente non vedremo mai all'interno del titolo della treyarch praticamente potremmo vedere che è una sorta di mimetica diamante soltanto che ci sono tutti i simboli diversi una sorta di freccia una sorta di cerchio un sorta di triangolo una sorta di simboli alquanto strani questo principalmente nella versione dell mp7 mentre nelle altre mimetiche come nei fucili a pompa o quant'altro sembra essere più una mimetica celeste senza simboli senza altre caratteristiche infatti in base al tipo dell'arma in cui la utilizzeremo cambierà appunto la colorazione sempre il celeste però in alcune armi sarà ovviamente celeste puro una sorta quasi di celeste tra virgolette animato in altre sarà sempre celeste ma ci saranno dei simboli in questa colorazione su uno sfondo a quanto pare grigio o verde militare quindi è stata trovata questa mimetica che prende il nome di mayan camo quindi una mimetica tra virgolette maya e un po' questi simboli la ricorderebbero che però non potremmo mai giocare dal vivo oppure potremmo giocare nel multiplayer di call of duty black ops 2 perché è una mimetica che non sarà a quanto pare mai rilasciata fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate se avete mai visto questa mimetica che invito andare a vedere nella miniatura del video e noi ci vediamo con tanti nuovi video